Bentornati a queste lezioni di Grease Pencil. Oggi riprendiamo come al solito avviando Blender in modalità 2D Animation e veniamo a questa parte che ci ha sempre accolto finora e che abbiamo sempre ignorato, vale a dire i layer. I layer sono uno strumento che chi è abituato a disegnare nei classici programmi di disegno bidimensionale conosce benissimo e in Blender Grease Pencil sono a disposizione esattamente come li abbiamo a disposizione in Photoshop o altri programmi. Quindi questa ci troviamo nella palette, questa con le ondine che è caratteristica di Grease Pencil, quindi tutte queste impostazioni sono di Grease Pencil. Siccome abbiamo avviato Blender in modalità 2D Animation ci ritroviamo due layer già pronti, uno che si chiama Lines e uno che si chiama Fills, per cui e normalmente finora abbiamo sempre disegnato su Layer Lines quando abbiamo cominciato. Veniamo quindi a come utilizzare i layer. Allora avremo bisogno di un disegno, adesso sinceramente comincio a fare qualche schizzo anche per darvi un'idea di quale potrebbe essere un flusso di lavoro all'interno di Blender Grease Pencil. La cosa migliore è sempre cominciare con uno schizzo di qualche tipo. Quanto ho disegnato si trova sul livello Lines. I livelli dovete immaginarli come dei fogli di carta trasparente uno sopra l'altro. Con questo occhio possiamo visualizzarli o nasconderli. Quindi se io adesso per esempio mi sposto su quest'altro livello e per spostarmi è sufficiente selezionarlo, mi sposto sul livello Fills e comincio a fare qualcosa sul livello Fills, quindi per esempio utilizzando sempre i materiali già pronti, magari passo al materiale Gray che abbiamo già visto come funziona e ricordatevi come funziona il materiale Gray. Il materiale Gray funziona che viene riempito con un colore pieno e che ci dà anche mentre ci muoviamo un'anteprima di quello che succede. Quindi vedete io in questo momento ho riempito col colore grigio e però prima di farlo mi sono spostato sul livello Fills. Quindi adesso se nascondo livello Fills come vedete nascondo esattamente solo questo. Vi chiederete tanto vale che nasconda il materiale grigio o il materiale nero ottengo esattamente lo stesso effetto. Esatto è vero in Blender abbiamo questa possibilità essendo i colori dei materiali ricordatevi soprattutto chi è abituato con i programmi tradizionali che ha senso utilizzare anche i materiali per la visibilità come abbiamo fatto nelle lezioni scorse semplicemente nascondendo per esempio il colore dello schizzo. Avevamo fatto un materiale apposta per lo schizzo. Ovviamente i layer ci permettono di utilizzare lo stesso materiale in un altro modo. Adesso ho premuto il tasto più posso dare un altro nome a questo layer lo sto facendo come esempio e se adesso vado a riempire sempre con il materiale grigio anzi facciamo nulla riempio solo questa zona sto usando lo stesso materiale grigio adesso e vado a riempire quest'area e adesso quindi pur essendo sempre il materiale gray ma l'ho fatto su fields 2 e posso quindi nascondere in maniera separata il primo e il secondo piano. In più ho quest'ulteriore possibilità e per ogni livello posso stabilire una caratteristica di opacità personalizzata per il livello per cui per esempio sono riuscito molto facilmente abbassando l'opacità 0,4 a ottenere un grigio più chiaro per questo sfondo rispetto a quello che ho utilizzato sul primo piano. Adesso se torno a riempire vedete che nel punto dove si uniscono vedo la sovrapposizione perché perché questo non è un livello di opacità del livello così come lo vediamo ma delle linee di quel livello per cui attenzione a questa piccola differenza perché verrebbe spontaneo pensare di nel momento in cui il livello sembra uniforme di poter avere un riempimento uniforme e invece no se abbassate dell'opacità comunque si abbassa l'opacità dei tratti disegnati su quel livello. Quindi attenzione adesso annulla un po' l'annulla anche l'operazione di nascondere o visualizzare un livello fa parte degli annulla quindi attenzione vedete che premendo continuamente annulla anche l'occhietto che si accende che si spegne fa parte dell'operazione di annullamento e anche questa è una differenza rispetto ai normali programmi di disegno nei quali visualizzare o nascondere un livello non è un elemento che viene coinvolto negli annullamenti. Comunque adesso sapendo questo comportamento delle trasparenze dei livelli uno sull'altro posso anche per esempio andare a ottenere degli effetti appositamente con questo sapendo che la che la trasparenza viene conservata a livello di singolo tratto. Posso usarlo come ho fatto in altre occasioni per dare dei toni diversi. Ovviamente se riporto su a uno l'opacità non vedo più questo effetto per cui non è il modo migliore per per realizzare delle ombre ma era per farvi vedere che comunque è una possibilità. Allo stesso modo quindi posso creare quanti livelli voglio basta premere più poi se voglio adesso per esempio disegnare queste montagne o il cielo si trovano dietro e quindi mi conviene prendere questo livello e spostarlo dietro agli altri per farlo uso queste freccette. Quindi se io lo metto qua giù e lo chiamo cielo posso andare nei materiali creo un nuovo materiale di riempimento tutte queste cose le abbiamo viste l'altra volta duplico grigio lo chiamo cielo lo stroke lo tolgo fill scelgo gradient e intanto scelgo due colori tanto temporaneamente per vedere l'effetto che fa riporto alfa su vediamo di scegliere due colori qualsiasi magari utilizzo il rettangolo trascino un rettangolo lo confermo con invio e adesso ho messo il cielo chiaro a questo punto che mi risposto di nuovo sui livelli che questo fill 2 dovrò rivedere il modo in cui l'ho fatto comunque adesso tornando ai materiali questo cielo qui andiamo a regolare un attimo 0,5 in maniera che sia metà strada il gradiente lineare però lo voglio con un angolo di 90 gradi inverto i colori questo colore lo scelgo e li cambio in maniera da avere dei colori diversi sposto mix factor fino a ottenere l'effetto che voglio oppure posso anche usare location y per trovare una posizione migliore comunque insomma regolo un attimo adesso questo è il materiale cielo posso creare un altro materiale sempre duplicando magari cielo adesso prendo cielo crea un duplicato lo chiamo nuvole nuvole e qui magari invece posso tenere sempre il gradiente per per semplicità magari vado su dei rosa non così saturi lo abbasso di molto questo lo prendo quasi bianco sempre lì torno alla mia pencil vado sui livelli mi assicuro di essere su cielo e posso disegnare delle delle nuvole sapendo che sono su cielo in più siccome il materiale nuvole qui posso sempre decidere di cambiare l'alfa dei singoli materiali ridurla in maniera che si mischino un po di più col cielo e anche qui di nuovo si tratta solo di trovare il giusto mix factor nella giusta posizione ecco adesso ho le nuvole torno sui livelli questo feels 2 come abbiamo visto lo vorrei buttare via allora sono in modalità draw se prendo la b quella che abbiamo usato finora per cancellare cancella tutto quanto tra l'altro tengo degli effetti strani perché cancella i punti quindi quello che era un rettangolo ha perso un paio di punti ed è diventato una forma strana quindi attenzione che nonostante i livelli io mi trovi su un certo livello alcuni strumenti continuano a funzionare su tutti quanti e anche questa è una caratteristica di blender diversa dalle altre posso fare così però posso bloccare momentaneamente gli altri livelli e premendo B andare a rimuovere da questo livello quello che non mi interessa adesso posso sbloccare di nuovo gli altri livelli e magari creo un nuovo duplico duplico come al solito gray vado quindi a prenderlo prima duplicato invece di gray lo chiamo fondo e prendo un colore grigio più chiaro che era quello che volevo fare magari gli do un leggero tono di marrone e no l'ho fatto su stroke invece devo farlo su fill quindi tiro via stroke adesso mi sposto sui livelli questo fills 2 a questo punto lo vado a spostare quindi fills è il primo piano cominciamo a dargli dei nomi normali questo lo sposto su e lo chiamo primo piano questo fill 2 lo chiamo secondo piano e ora sul secondo piano posso andare a dipingere quello che voglio prima chiudo e poi magari perché no posso continuare con black e con un altro strumento per esempio ink pen posso andare a lavorare certo che sto lavorando sul livello in questione e quindi sul livello secondo piano tutto quello che disegno nonostante i materiali sarà posizionato su questo singolo livello adesso ovviamente non passerò molto tempo e ovviamente avevamo uno 0 5 che devo riportare a 1 ed ecco adesso è ben più comprensibile avete notato che uscivano le nuvole quindi adesso ho tutte queste cose che sto disegnando sono sul livello secondo piano e posso usare tutti i materiali che ho a disposizione sapendo che in qualsiasi momento se tolgo l'occhietto secondo piano sparisce tutto quanto l'ins continua a contenere il mio schizzo per cui lo posso chiamare schizzo e posso nasconderlo e adesso vedete ho quindi la possibilità di nascondere mostrare tutte le varie parti del disegno se mi metto adesso su primo piano magari invece di ink pen mi prendo un marker vado a regolare un momento come avevamo visto il fattore di angolo che non mi piace che sia così esagerato e invece di 20 lo porto dalla parte opposta e adesso con il nero sempre col materiale nero posso andare ad aggiungere degli elementi qui grazie 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 ecco potete notare in quest'ultima cosa che ho fatto spostandomi su cielo ho disegnato questa montagna e come vedete sono potuto uscire dai bordi qui e non ho coperto la parte davanti perché? perché la parte davanti che si chiama secondo piano sta davanti se la levo possiamo vedere che qua ho sbordato come prima avevo sbordato con il cielo quindi il fatto di mantenere dei layer ci permette facilmente di andare ad aggiungere e togliere elementi alla nostra scena ma comunque diciamo di tenere separate le cose e vedremo che sarà ancora più interessante quando appunto potremo spostare gli oggetti in 3d e ovviamente se sposto di posizione i layer vedete se io il primo piano lo sposto dietro il secondo piano ecco che all'improvviso viene coperto quindi questo è il funzionamento base dei layer c'è anche qualcos'altro che può essere interessante in particolare il fatto che si possa decidere su un layer che sta sopra di non sbordare dal precedente facciamo subito un esempio ammettiamo che voglia fare delle ombre sul secondo piano e che per qualche motivo decida di farle qui quindi ombre faccio delle ombre con un materiale apposito creo un materiale per le ombre copio magari questo qua che ho chiamato light lo chiamo shadow e prendo un colore no scusate ecco ho fatto questo errore ho creato un nuovo slot però non ho duplicato il materiale quindi cambiandolo sto cambiando in realtà shadow ho due slot tutti e due con lo stesso materiale quindi annullo compreso il cambio di nome creo il duplicato e poi cambio nome attenzione questo capita soprattutto a chi è abituato semplicemente a scegliere un colore allora adesso prendo questo questo colore e per esempio voglio andare a fare delle ombre quindi mi sposto qua sul livello ombre e voglio andare a coprire qua queste parti e fare delle ombre allora cosa succede che esco e ho già tracciato però questo bordo posso utilizzare questo tastino che è maschera al livello in questo modo il livello ombre non supererà mai i bordi dei livelli sottostanti c'è un piccolo problema che ho il livello cielo che in realtà occupa questo spazio e quindi non mi permette di ottenere questo effetto guardate mi sposto leggermente di qui se adesso qui dipingo vedete che viene effettivamente clippato se io tolgo questo e lo rimetto in pratica questo livello non può essere disegnato cioè comunque viene coperto ciò che è disegnato oltre i livelli sottostanti il problema è che siccome tra i livelli sottostanti c'è anche cielo nel momento in cui lo nascondo allora ottengo effettivamente che la mia ombra sia limitata al bordi di secondo piano siccome però esiste anche cielo questo effetto non funziona quindi caso mai questa cosa la vediamo in un'altra occasione in un'occasione nel quale non ho un disegno completamente coperto come in questo caso con cielo però è per dirvi che questo è il classico clip at layer below che si trova in molti programmi di grafica solo che invece di funzionare solo con il singolo livello sottostante funziona con tutti quanti una cosa che comunque possiamo in ogni caso tenerlo attivato in maniera che se esco al di fuori viene comunque bloccato una cosa interessante sono gli effetti di mescolamento dei livelli uno sopra l'altro e sono qui questo blend regular significa quello che abbiamo fatto finora un livello copre i sottostanti e posso decidere un'opacità però abbiamo a disposizione anche questi metodi di fusione si chiamano sono i classici quelli disponibili dentro a photoshop ovviamente sono molti meno comunque per esempio per le ombre un buon metodo di fusione è moltiplica a questo punto mi accorgo che il colore è troppo scuro posso schiarirlo un po' e di sicuro desaturarlo però in pratica significa che adesso quello che disegnerò su questo livello sul livello ombre verrà moltiplicato per i colori sottostanti quindi vedete se io passo sopra a dei colori già esistenti non sono coperti come in regular completamente ma il colore viene il valore di colore viene moltiplicato per quello sottostante quindi è un ottimo metodo per fare le ombre in modo tale che qualsiasi sia il colore sottostante quello che disegno sopra va a scurire tutti i colori sottostanti quindi posso andare a farlo anche qui per esempio e questo colore andrà quindi a scurire qualsiasi colore ci sia sotto il materiale di fondo se io lo cambio e decido che il mio paesaggio non è più brullo ma è verde come vedete il livello delle ombre è diventato verde si è moltiplicato il problema è il livello delle luci che infatti come vedete avendole disegnate semplicemente con un materiale chiaro di questo tipo allora invece rimangono esattamente come erano quindi in questo caso se volessi cambiare il colore delle luci devo cambiare il colore del materiale andando a simulare una luce però mi cambia anche il colore della montagna dietro quindi il modo migliore per creare luci e ombre è utilizzare gli effetti di livello gli effetti di fusione del livello se volessi fare delle luci cosa faccio? creo un livello lo chiamo luci prendo un colore per le luci quindi un materiale mettiamo che sia davvero questo light non sono sicurissimo che sia una buona scelta perché mi pare un colore molto chiaro però se invece di regular vado a scegliere add add somma questo colore a quello sottostante come dicevo è probabilmente troppo chiaro posso provare a ridurre l'opacità ma l'effetto di add è comunque molto molto pesante posso provare altri metodi di fusione ecco overlay overlay anche con un colore così chiaro mi permette di avere delle luci accettabili ovviamente come vedete queste luci si sommano ai colori che erano già presenti sulla scena quindi se io per esempio adesso porto primo piano più indietro perché altrimenti e lo porto giù altrimenti comunque copriva luci e ombre adesso mi sposto su luci se vado adesso a disegnare su questo livello come vedete fa overlay sul colore esistente su questo marrone alla stessa maniera se vado su ombre e utilizzo il materiale shadow che avevo usato per le ombre quello che disegno va a moltiplicarsi per il colore già esistente in questo caso mi dà ancora più fastidio che ci sia ecco questo fattore comunque vedete in questo modo con i metodi di fusione posso creare dei livelli che mischiano il loro colore con quelli sottostanti è una tecnica che comunque chi è abituato a disegnare con i classici programmi di disegno conosce benissimo insomma quindi abbiamo visto a cosa servono i livelli li abbiamo sovrapposti abbiamo visto che possiamo cambiarne l'opacità e tra l'altro notate che si comportano comunque in maniera strana per cui fate delle prove perché non sono esattamente come nei classici programmi di grafica fate comunque delle prove le modalità di fusione appunto sono overlay che è un metodo nel quale il grigio è un colore neutro e tutto quello che è più scuro del grigio scurisce e quello che è più chiaro del grigio schiarisce quindi una specie di modalità luce add appunto somma e quindi tende ad arrivare al bianco bisogna dipingerci sopra con colori scuri e subtract fa una differenza tra i colori e invece moltiplica è quello in cui appunto i valori vengono moltiplicati ed è utile per le ombre divide insieme a subtract è diciamo poco utile in ambito artistico ma servono comunque a ottenere dei particolari effetti come vedete non sono poi molti ma permettono in ogni caso di ottenere dei buoni risultati la cosa interessante in realtà poi è ricordatevi che siamo in Blender Blender è un programma di grafica 3D per cui non siamo costretti a comportarci in questo modo a posizionare le cose sul disegno nello spazio con i layer quello che faremo più avanti sarà posizionare questa parte del primo piano più avanti rispetto alle altre che staranno dietro e quindi in questo modo otterremo l'effetto di sovrapposizione dei livelli ricordatevi questo quindi adesso premuto lo zero e sono tornato nella visione normale potremmo poi spostare le cose nello spazio quindi i livelli ragionateli soprattutto per separare appunto le linee dei riempimenti, le ombre, le luci e perché no alcune parti del disegno che poi potete pensare di voler animare per esempio in un'automobile potremmo disegnare le ruote su un altro livello se abbiamo il volto di un personaggio potremmo disegnare gli occhi o la bocca su un altro livello quindi abbiamo questa possibilità di separare degli elementi di disegno ma ricordatevi che per separarli nello spazio sarà più facile separarli poi adesso vi faccio vedere velocemente come questo disegno potrebbe essere separato nello spazio e sono cose che vedremo nelle puntate più avanti però è tanto per darvi un'idea ecco qua adesso come potete vedere ho separato nello spazio i tre elementi ho duplicato prima i tre oggetti e poi da ognuno ho cancellato la parte che non volevo e che succede adesso? che se muovo la telecamera come abbiamo visto in una delle lezioni scorse premo lock camera to view e muovo la mia telecamera ecco che posso andare a cercare altre inquadrature chiaro che se esagero e mi metto in posizioni molto estreme dovrò spostare di nuovo i miei oggetti e quindi potrò appunto incontrare dei problemi però capite che la composizione in uno spazio 3D può andare ben oltre all'uso dei livelli e soprattutto appunto mi può permettere di studiare molto varie possibilità di inquadratura e quindi una volta che ho trovato questa inquadratura posso premere F12 e ottenere questa immagine e salvarla inquadratura 1 e scelgo JPEG ma posso anche andare a cercarne un'altra più dall'alto questo lo devo ingrandire questo lo devo portare un po' in su questo cielo lo porto più in A e magari lo rimpicciolisco e adesso F12 di nuovo e ho un'altra inquadratura image save as inquadratura 2 JPEG posso andare a fare varie prove questo è il motivo per il quale stiamo imparando Blender Grease Pencil perché componendo il disegno in uno spazio 3D le possibilità che si aprono sono varie e sono anche più offrono delle possibilità diverse a noi disegnatori per comporre le scene in modo particolare quindi ricordatevi che i livelli non è necessario che vadano a creare delle differenze nello spazio pensateli soprattutto con un'ottica di separare gli elementi del disegno che volete siano separati grazie mille e la prossima volta continuiamo con altri elementi di Blender Grease Pencil ciao a tutti quanti